E' per tutte le persone che amate, che sono poi effettivamente l'unica cosa che conta in questa vita, il resto è tutta la sua struttura, mi tenete delle strette. Vianda, dici qualcosa su Maria Antonieta. Sono animali, spero. Sono animali, secondo te. Vincenzo, dici qualcosa. Sono animali. Animali. Se il mondo così piccolo vorrà, ci fossero miliardi di chilometri, tra me e tutte le cose continuate riempiti, quella bocca di stonzate, come fate sempre, andate in pace, andate in pace. Aci, per l'occhio, per l'occhio, per l'occhio, per l'occhio. Questa casa ha molte cose, durano per sempre, anche se non vuoi. Ma in fondo, non c'è ne frega niente. 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 E non c'è ne frega niente. Ogni giorno. Grazie.